Questo è un concorso che parte per la prima volta, un concorso di presepi, infatti il titolo dice tutto, fai un presepe dove vuoi ed è questo il discorso, lo possono fare dove vogliono chiunque, riservato ai privati, ai negozianti, agli albergatori, bambini, grandi, piccoli, vecchi, donne, nonne, tutti che vogliono esprimere la loro creatività creando un presepe di qualunque tipo moderno, vecchio, fatto con qualunque tipo di materiale, plastica, tutto quello che vogliono, in qualunque parte della città, o meglio del centro storico. È chiaro che per fare questo bisogna avere un'autorizzazione, quindi chi è interessato a fare questo presepe ha una scheda che tengo io in negozio o anche altri negozianti ce l'hanno oppure da comunica di Moscelli, si riempie questa scheda con il nome e cognome e dove vuoi ubicare il tuo presepe. Invece ci sarà un percorso, più presepi arrivano e meglio è, che la gente dovrà vedere e ci sarà una giuria che andrà a vedere e giudicare questi presepi, una giuria sia un po' più elitaria, di gente esperta, ma anche il pubblico può votare attraverso Facebook, mi pare anche Instagram ci sia. Quando cominciare il presepe? Anche domani avete tempo tutto il mese di dicembre fino al 23, cioè fino al 23 potete fare il presepe dove volete, aperto a tutti. Grazie.